Ben trovati da Nikos di Trebimeteo, l'estate procede alla grande, a gonfie vele sulla nostra penisola, non è disturbata da nessuna perturbazione, troveremo anche mercoledì questo campo anticiclonico ad assicurare bel tempo, ampia apertura del cielo, classici temporali di calore nel terzo pomeriggio in serata sulle nostre montagne, sia l'arco alpino che la dorsale peninica. Andiamo a vedere nel dettaglio la nuvolosità, ci conferma cieli sereni o al più poco nuvolosi praticamente ovunque, una bella giornata per fortunati i vacanzieri del mare. E in sintesi l'ultima immagine, non tanto per vedere il sole che interesserà tutte le nostre regioni a parte qualche temporale di calore in serata ridosso dell'arco alpino, ma per le temperature perché ovunque saranno tra 28 e 32 gradi, punte di 34 gradi sull'Emilia Romagna. Comunque si tratta di un caldo tutto sommato moderato, non possiamo lamentarci. Dettagli maggiori su Trevi Meteo!